hanno detto ma noi tutti si sono andati no io dopo la donna per me no infatti ti ho messo proprio perché sapevo questa ricerca io a tre e a tre e a tre non siamo eh no sono andati eh certo già andati in più sono andati tutti di corsa a mangiare per riprendere un'ora di pausa ma a caso lo so però a me non si è andata così oggi sicuro dico da noi e fa caso ci parla le voglio quanto è la rimbarbacchia senti io ho sentito il Vincenzo ho detto ma il cambio il cambio quando mi arriva il cambio è benissimo il cambio quando mi arriva guarda quello che mi dalle centrale faccio ma non è una cosa bella che tu sei che quando hai gare e dici e io qua incomincio nelle gare alle quattro, quattro e mese che vanno viva di nuovo tre tre o o cambia 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 Ossia, senti, fammi una cortesia, si, fammi una cortesia, ok, cioè, no, no, gli dici che il fatto di me rimane qua, no, ancora, io gli ho la testa, non ti ho, non siamo in centrale, ma che stiamo a fare il giochetto. No, 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 no. No, 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 non sunta l'abbiamo, alla fine che l'abbiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.